Volevo fare notare il livello delle altezze, delle varie protagoniste di tutto questo set. Venite qua, qua qui? Eh? Top model! Perfetto! Non è solo così, si lavora solo a questa altezza. Più di 1,50 non va bene. Non le vogliamo. Non le vogliamo. Tu quanto sei? 1,54. Eh, esagerata, sono 1,52 io. Te quanto sei? Non sei 1,52 te. No, sono cresciuta nel frattempo, sono 1,52. Tu quanto sei? 1,53, non è possibile. 1,53, non è possibile. Sei più alta di me? No, tu sei più alta di me. Ah, no, ho i tacchi. Questo è.